Vi ringraziamo per essere venuti qui, c'è qualche domanda, qualche cosa che vogliamo di prima, una dichiarazione? Non c'è domanda che abbiamo fatto noi, quindi... Vabbè, perché ne so? Potete fare una domanda a Luca Vecchi? Magari vedete una risposta? All'autore Luca Vecchi! Allora, questo cappotto l'ho comprato dai cinema a 5 euro, ma se non era chiedi di rischio, è speso bene 30 euro di un po' di rassicurazione. Da qua guidiamo un mega zord, tipo... Quando ci fanno incazzare guidiamo i nostri dai... Bene, andiamo avanti, facciamo una previazione. Ragazzi, grazie mille di tutti, vogliamo bene, grazie mille. Buona roba! Io sto mangiando la chiena, un grande applauso è proprio il gruppo, ragazzi. Questa ve la chiedo. Poi Matteo, perché hai paura della neve? Eh? Perché hai paura della neve? Non l'ho mai visto, sono troppo povero per andare in sembranza. Grande applauso, grazie! Con le spalle! Con le spalle! Indietro, 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 indietro! Applauso, mani in alto, regà, chiera! Non per i debiti, ma almeno per la chiera, dai!